ci facciamo riconoscere appena arriviamo siamo turisti per caso parliamo solo italiano siamo esperti della moda ci ha fatto e con le calze rosa la stiamo il conto da pagare al ristorante sono al mesegione 11 10 minuti fa si è tardi comunque e sto cominciando a editare un video comunque ieri il blog home ma l'ora chiamato mini blog home perché è piccolo e sto editando il video sono solo oggi sono sicuro è proprio sicura che sia la donna ritratta in questo posto sì perché non si è rivolta alla polizia questa fotografia per la prima volta e quindi sarei venuta da voi insomma questo è che la sicuro il vostro lavoro è molto importante della città e per dimostrare che tengo gli occhi aperti nel conto un'altra cosa oggi è molto presto ovviamente sono le 10.03 punto oggi è 7.01 seconda parte del blog perché io non ho proprio aggiornato oggi vorrei un po' aggiornare partendo comunque la domenica oggi siamo a capire questo verrà chiamato vlog ma sempre il blog del popolino e verrà titolato il blog del ieri perché è anche questo il blog del ieri ma diciamo che l'ho veramente modificato solo per due giorni comunque oggi è domenica oggi devo lavare il cagnarino che è un po' sporchetto devo fare il bagnetto e poi sistemare un po' di roba in camera e poi pensare di fare dei video normali per la settimana questa e poi io volevo anche cominciare a editare questo video ma penso probabilmente lo diterò tutto stasera e poi oggi farò dei video normali per i prossimi giorni comunque spero che devono uscire martedì, martedì, giovedì, sabato e basta farò quelli di questi giorni adesso vedo quali fare ma ovviamente farò quelli del lunedì che l'unedì ho solo due video da fare ricreare il tiktok e fare e come edito un video come edito il video farò quello come edito il tiktok comunque e sì, stati mandato sì, due video al giorno però quel giorno ma vabbè quel giorno cioè voi l'avete già visto comunque perchè questo uscirà vlog del 6 uscirà adesso vi dico quando uscirà perchè voi l'avete già visto vlog del 6 uscirà il 29 luglio cioè tra praticamente dopo tre settimane praticamente tre settimane si è un po' più un'organizzazione strana lo so ragazzi un'organizzazione molto strana e i vlog usciranno praticamente quasi tutte le volte vicini tutti i vlog vicini perchè tutto caso che il vlog l'ho messi per ultimo e li metto per ultimo comunque perchè tra vlog home video normali non vengono così comunque dicevo che praticamente è così ma tranquilli ma tranquilli questi verranno messi ehm i vlog volevo dirvi che praticamente li ho già mentirata ragazzi ah poi è un'organizzazione molto semplice perchè i video alternati riusciranno e durante la settimana farò video comunque per un'organizzazione fatta bene e sono ci funziona molto bene questa metodo comunque perchè ogni giorno faccio un video ed è uscito quel giorno comunque ehm ho deciso di farli uscire due giorni alla settimana ma ho detto no è brutto non mi piace allora tre volte la giornata la settimana alternata cioè e se tipo la prima settimana capite lunedì mercoledì giovedì venerdì e domenica la settimana dopo martedì giovedì venerdì sabato è una alternata per mente la settimana ehm come fin a oggi uscirà ehm un video alle due e mezza ma comunque voi l'avete già visto penso spero non spero spero probabilmente di si ho un merito non so ragazzi what's my own allora uscirà oggi il video dell'altro giorno di giugno tranquilli uscirà il video che ho fatto una settimana fa praticamente non l'ho dimenticata l'ho fatto lunedì il video ecco cioè praticamente tre, sei giorni prima praticamente praticamente il sistema che praticamente chi tipo se capita l'uno va o la il giorno dopo cioè o mercoledì tipo per esempio la settimana questa è passata capitava il lunedì di pubblicare lunedì, mercoledì, venerdì e domenica tipo potesi non c'è niente nessuna programmazione la settimana c'è solo una programmazione di far pubblicare un video di pubblicare come si prepara un esame lo metto il mercoledì solo che questa volta era occupato lo metto l'ho messo fine settimana comunque perché tanto è una realizzazione molto scelte niente adesso vedo altrimenti qualcosa niente dopo cantiamo per le strade il nostro himno nazionale da Milano giù in Salento mi lamento per il tempo ci odia tutta la spagna